E bentornati signori Aldo Mandello, il quiz per chi ha voglia di... E il primo concorrente di oggi è italiano, nato in Italia, l'hanno definito il più grande influencer al mondo, leggo qui, giusto? Signore e signori, Pa... come si pronuncia? Paolo, Paolo. Paolo, Paolo, Paolo Corbetta, pensate che Paolo è sì italiano, ma è stato all'estero, leggo qui. Sì, sono stato in Spagna. Sei stato in Spagna, quanto tempo sei stato in Spagna? Ma una settimana. Ma una settimana, la Spagna è la terra dell'amor, chissà quante avventure in Spagna. Partiamo con la prima domanda, posso chiamarti Paolino? Sì. Paolino, Paolino. Parliamo di Sky Glass, la TV, no? È presente la TV? La TV, le TV, tra l'altro sono dotate di un dispositivo, il telecomando, no? Teles comandos, dal latino, uorum, urum, as. Se non trovi il telecomando di Sky Glass, cosa fai, Paolino? A. Ci rimani male. B. Ci rimani male due. C. Mille palline blu. D. Chiedi a Sky Glass, ciao Sky, trova il telecomando. Mmm, allora... No, mica di su allora, sei eliminato. Ma perché? Ma perché, non bisogna dire... È la prima regola del domandello. Ma che regola è? Adesso te ne vai, adesso ti alzi e te ne vai. Adesso ti alzi e te ne vai. E che entri il nuovo concorrente, Marcello. Grazie, Marcello. Sicuramente lo conoscerete per il suo nuovo libro, Ami e Bottoni. Sì, sì, è un libro da colorare. È un libro da colorare, ma è anche una grande storia d'amore. No, è solamente un libro da colorare. È solamente un libro da colorare. Ma che cos'è l'amore senza i colori? Giusto? Andiamo con la domanda, Marcello. Se non trovi il telecomando di Sky Glass, Marcello, cosa succede? Penso che la risposta corretta sia la D. Quindi dico, ciao Sky, trova il telecomando. E il telecomando di Sky suona. Ed è corretto, Marcello, complimenti. È una nuova funzione del sistema operativo Entertainment OS che si aggiorna di continuo. Adesso l'ultima domanda, Marcello. Domanda che vale un milione di gettoni d'oro. Un milione di gettoni e basta. Dove me ne metto? Te metti in garage, Marcello, non lo so. La prossima domanda è la seguente. Se vedi un film con Sky Glass e non ti ricordi, disgraziatamente, il nome di un attore, ma sai, che fai? A. Stacchi la spina. B. Apri Encarta 95 e cerchi informazioni su quell'attore. C. Chiami la sede di Sky e invia Luigi Russolo 4. D. Metti pausa. Torni alla pagina di descrizione del film, scorri fino a Cast e trovi tutte le info su Cast e Regia. Sapendo che se selezioni un attore, Sky Glass ti mostra tutti i titoli disponibili nel catalogo Sky e nelle diverse app in cui quell'attore recita effettivamente. Pensavo di saperla. Penso che sia la D, perché comunque è una delle nuove funzionalità di Sky Glass. D'altro canto, penso che perché avete idea. Direi che scelgo la A. Stacco la spina. No!